Per essere confidente in qualcosa devi avere prove della tua competenza, prove che dai a te stesso, altrimenti si chiama overconfidence, altrimenti pensi di essere più bravo di quanto non sei. Non costruisci la fiducia in te stesso raccontandotela davanti allo specchio. Sono confidente, so come controllare, so vendere, so vendere, so vendere, so vendere. Sono bravo in palestra. Non esiste così. Cos'è che ci dà la confidenza? Sono i risultati che dimostrano il fatto che noi ce la possiamo fare. Non ti guardi allo specchio, e infatti io contesto tutto quel mondo dell'auto aiuto, guardati allo specchio e immaginati una persona migliore. Devi fare le cose per ottenere un risultato. Non è che se ti guardi sei una persona che non sei, puoi diventare una persona che non sei. La confidenza arriva dalla fiducia in se stesso, nelle proprie capacità, che ti portano a portare a casa il risultato qualunque cosa succeda. La fiducia senza prove concrete è un'illusione. Chi l'ha mai sentito il detto fake it until you make it? Fingi fin quando non hai raggiunto l'obiettivo. Voglio diventare Donald Trump come imprenditore. Fingiamo di essere Donald Trump così se ci credo forte, forte lo divento. No. Se ne accorgono tutti. Chi non se ne accorge sono i monellini che comprano i corsi dai fufoguro. Per essere confidente in qualcosa devi avere prove della tua competenza, prove che dai a te stesso. Altrimenti si chiama overconfidence. Dunning-Kruger effect. Altrimenti pensi di essere più bravo di quanto non sei. Quindi uno che mi dice che è un bravo investitore, un bravo trader. Ecco, uno che mi dice che è un bravo trader. Perfetto. Da quanti anni è che batte il mercato? Beh, sei mesi. Sciocco. Ho battuto in modo consistente e costante il mercato negli ultimi dieci anni. So come ho fatto e so come potrei farlo. Di nuovo. Questa è una confidenza. Lo capite la differenza? La competenza e la confidenza si costruiscono un passo alla volta. Facendo quello che c'è da fare e dandosi conferme positive che siamo in grado di farlo. E questo ci motiva tantissimo. E infatti anche i tutor, magari uno ha fatto il primo passettino, ma loro lo celebrano il risultato. Vi è capitato di sentirvi, come dire, lodati per un piccolo miglioramento che avete fatto? Eh, ma è per questo. Perché è difficile all'inizio. Ed è giusto darsi un po' di carica, no? Come l'hanno data a me. Bravo Giorgio, sei andato per la prima volta in palestra. Sei grande, cazzo. Ci hanno dato una volta. Eh, ma uno è meglio di niente. Sono passato da zero a uno. E dobbiamo celebrarlo, no? Poi mica finisce lì. Un passo per volta, ok? Ognuno di voi è forte in qualcosa, no? Chi è che mi dice, non lo so, un hobby? Chitarra? Oppure? Spot, tennis. Ok. Quante ore hai dedicato alla pratica del tennis? Come trasferisco la confidenza specifica dall'ambito tennis all'ambito finanziario? Perché tu sei una persona che può diventare confidente in qualcosa, no? Però in questo ancora non ce l'hai la confidenza. Ed è normale, no problem. Come la trasferiamo? Con un metodo che segui. Il metodo te lo do io. La pratica chi ce la mette? Se togliamo, ecco il discorso che dicevamo prima. Io ti posso dare il metodo e deve essere provato che ti porta lì. e ho già portato altre 200 persone lì. Ma tu devi fare il tuo. Hai capito? È un po' quello che dicevamo prima. Se dedicassi lo stesso tempo che hai dedicato al tennis, alla gestione delle tue finanze, pensi di poter raggiungere lo stesso livello di confidenza? Ovvio. Perfetto. Eh, ma io non ho tempo e voglia. Se è così, allora delega. Ma non puoi non farlo. Rimane il discorso di prima, eh? O impari o ti affidi a qualcuno. Per imparare devi essere disposto a fare una valanga di errori, però. E invece la gente non decide. Scegli la terza opzione, che è il Vago. Il webinar del 7 di febbraio a tema ETF è stato uno dei più seguiti di Piano Finanziario. Oltre 1500 persone hanno partecipato in diretta all'evento. Altre tante persone però ci hanno scritto che non sono riuscite a partecipare. E quindi fino al 29 di febbraio, giovedì, abbiamo deciso di rendere disponibile la registrazione. Se te lo sei perso, è un evento da non perdere per conoscere il mondo degli ETF e capire quali sono le opportunità che possiamo cogliere anche noi piccoli risparmiatori e piccoli investitori. Trovi la replica nel link qui sotto. Vi faccio un esempio. Le ho chiamate le quattro stagioni di Vivaldi Giorgio. Io ho acquisito confidenza su questi temi negli ultimi 15 anni di lavoro. Matto e... com'era? Leopardi? Matto e... disperatissimo. Investimento? 10.000 ore di studio. Marketing? Altre tante. Queste sono le competenze che ho acquisito... Cosa vuol dire? Queste non sono competenze. Ho la confidenza. Cosa vuol dire confidenza? Ho confidenza dell'investimento che reggo il mercato ribassista. E sono stato lucido quando andava male. Se avessi avuto solo la conoscenza ma fossi andato nel panico a marzo 2020, non avrei avuto la confidenza. So vendere una a tanti. Ok? So portare a mercato un prodotto. Vendite? Ok, mi conoscono online. Però posso dire che se io mi metto a vendere chiudo chiunque. Perché l'ho fatto migliaia di volte. Perché sono profondo sulle altre cose e ho la confidenza. Che non vuol dire che chiudo al 100%. Vuol dire che però ho molte probabilità di farlo. Altissime. Potenzialmente misurabili. La vedete? La confidenza cosa vuol dire? L'ultima sfida è lo sviluppo delle risorse. È in corso. Non sono ancora 100% confidente. Quindi com'è che ho acquisito... Vi faccio l'esempio su di me ma per motivarvi. Perché ce la potete fare anche voi sulle vostre cose. Com'è che si fa questo passaggio? Si parte dalle cose in cui siamo già forti. Il tennis. La domanda è se tu acquisissi o utilizzassi la stessa determinazione del tennis a imparare qualcos'altro ce la faresti? Sì. Fallo. Io non avevo una particolare predisposizione nella gestione delle risorse. Era il mio punto di debolezza. Mi mancava una competenza. Ma oggi sono confidente del fatto che sono in grado, se sono determinato, di acquisire competenza in ogni campo. Quindi, come dicevo prima, con la strada giusta, che vuol dire qualcuno che abbiamo capito prima, che mi aiuta come abbiamo capito, sono ragionevolmente sicuro di poter acquisire confidenza anche in questo ambito, che per me è nuovo. Capite come si trasferisce, come si diventa sicuro a fare qualunque cosa? Prendendo la sicurezza che abbiamo in altri contesti. L'obiettivo è acquisire la stessa... Utilizzare la stessa metodologia, no? Che abbiamo usato per il nostro hobby, che è la ripetizione, ragazzi. Le competenze crescono in modo esponenziale. Mi sono accorto che sono sempre più veloce ad acquisire confidenza. Ci ho impiegato cinque anni a studiare gli investimenti, quattro al marketing, tre le vendite. Secondo me tra un anno ho finito questo. Dopo vi dirò quando ho capito che sono arrivato. Ecco, però allora adesso dobbiamo capire come aumento la confidenza in quello che faccio. Con la pratica, l'abbiamo già detto. Con le prove che do a me stesso. Prove che sono in grado di affrontare le difficoltà e superarle. Prove che anche se va male io sto lì. Ma come acquisisco queste prove? Con la ripetizione. Più volte lo fai, meno schifo farai. Sì, ma quante volte devo farlo? Tante da annoiarti. Quindi, quante volte lo devo fare tanto da annoiarmi? Deve diventare un automatismo, un'abitudine. Eh, ho fatto il budget. Quando? L'ultima volta. Beh, sei mesi fa, no. Tutti i giorni ci devi guardare. Come dire che voglio perdere peso e mi peso una volta ogni tre mesi? Tutti i giorni. I numeri dell'azienda li controllo tre volte al giorno. Lo controllo sempre. Come faccio ad avere il controllo? Eh, ma ci guardo. La confidenza ce l'ho perché vedo cosa ha fatto e il risultato che ottengo. Questa per me è la frase. Segnatevela. Tatuatevela. La confidenza viene dal passato. Non viene dal presente. Non è che io sono confidente perché sono nato confidente. Sono confidente perché mi sono fatto un mazzo così sulle mie cose. Perché ho dimostrato a me stesso che ce la posso fare se mi applico in un determinato modo. È il risultato delle tue azioni passate. Che nel caso del tennis ti hanno reso confidente nel tennis. Nel caso della palestra, uguale. È la ripetizione che dà la confidenza. E non esistono scorciatoie. Se no, non avrai mai la confidenza e la sicurezza in te stesso. Vorreste che qualcuno ve l'inducesse la sicurezza in voi stessi? Magari, ma non si compra. Amazon non c'è ancora riuscita. Non è possibile. Ve la generate voi. Valutando le vostre azioni passate. Cosa vuol dire se non siete ancora al 100% confidenti? Significa che non hai ancora acquisito una competenza sufficientemente profonda e testata in molteplici scenari. Sei bravo solo in un certo contesto. Ok? Devi continuare a lavorarci. Una volta che ho identificato il mio punto di debolezza, da solo difficile, quasi impossibile. Con l'aiuto di una guida molto più facile. Devo adottare il cambiamento necessario. È l'unico modo per poter dire che ho imparato. Il cambiamento è necessario a ottenere il risultato che voglio, no? Più lo faccio, più velocemente lo faccio, prima arriva ad acquisire la competenza e dopo la confidenza. Quindi divento sicuro di me stesso perché ho... Sono in grado di farlo in qualunque contesto. Ho il controllo del mezzo. Una competenza superficiale non ti porterà al risultato sperato perché ci molli il giorno dopo. Se questo non fosse vero, non esisterebbe gente che con i migliaia di libri che ci sono là fuori, su qualunque tema, non raggiunge i risultati sperati. È logica. Siamo nell'era dell'informazione. C'è accesso a tutto. La confidenza si accumula con la pratica continuativa. C'è accesso a tutto.